Il cattivo tempo e la pioggia non hanno fermato l'ultima giornata del carnevale delle Egadi qui a Favignana ma anche a Marettimo, stamattina con una incursione del gruppo quello che c'è c'è all'Evanzo, la voglia di divertirsi nel segno della tradizione del carnevale è stata più forte della pioggia e del cattivo tempo e di questo noi siamo assolutamente felici Questo lavoro che hanno fatto questi ragazzi dell'Istituto Penitenziario di Favignana avrei voluto farli sfilare con tutti voi però il ragazzo che sa fare questi lavori di origami non poteva uscire e allora per essere equi con tutti hanno fatto tutti insieme questo lavoro insieme a questo ragazzo che non poteva uscire e quindi li abbiamo premiati Un applauso a questi ragazzi che fanno parte della nostra comunità, grazie